Raga, scommessa con voi. Devo palleggiare fino lì in fondo, poi salgo in piedi di testa, me la butto su, mi arrampico sul tetto, arrivo palleggiando, seduto fino a qua e torno qui, sempre palleggiando. Se lo faccio, per chi ancora non lo fa, mi deve seguire però, da adesso in poi, se non schippate video. Per chi già mi segue, grazie per il supporto. Vado, eh? Partolo qui. Raga, è stretto. 3, 2, 1, via. Ora tu cavoi.